Belluno Foto Festival, una collaborazione tra l'associazione Lab77 e il comune di Belluno. Ringraziamo gli sponsor, un'occasione per tornare a vivere nelle nostre piazze in primavera, infatti verranno installate una serie di strutture a sostegno dei pannelli fotografici che dal prossimo 19 aprile al 7 giugno saranno appunto nel nostro centro storico. Un'operazione turistica ma anche culturale che vuole invogliare i nostri concittadini a visitare il centro storico ma anche chi viene da fuori per approfondire il tema della street art e dell'art documentari. Siamo sicuri che quindi questo primo Foto Festival sia l'occasione per riportare gente in piazza e per quindi portare un'occasione nuova che la nostra città non aveva ancora avuto modo di vedere.